Ciao, sono Dani Mendez e vi mando un caro saluto a tutta la famiglia di Miss Blu Mare che ci vedremo molto molto presto, un saluto a tutti gli sponsor, agli agenti regionali, allo staff nazionale e soprattutto mi raccomando ci vediamo molto presto perché non vedo l'ora di conoscere le ragazze e soprattutto questo binomio MSC Miss Blu Mare. Un bacio da Dani Mendez, a presto! Grazie a tutti!